La Livigno Sky Marathon inserita nelle Skyrunning World Series, disegnata sui 34 km con un dislivello positivo di 2600 metri, ha messo alla prova i big dello Skyrunning mondiale. 250 runner al via su un tracciato unico, tecnico e spettacolare, sul confine tra cielo e terra. Vittoria per Elisadesco e Tadei Piuk, che per primi hanno tagliato il traguardo. La Livigno Trail, competizione di 17 km lungo la Val Federia, ha visto la partecipazione di 130 concorrenti. Percorsi e panorami unici, resi ancora più magici dagli eroi della montagna, che a Livigno trovano la loro casa. Livigno Sky Marathon, che spettacolo! Grazie per la visione! Grazie per la visione!